Ciao ragazzi, sono Ciro Physis e oggi siamo qui dopo un po' di tempo con God Simulator. Allora, oggi vorrei fare una cosa che non è questo. Vorrei trovare il luogo dove... Lag. Lasciamo perdere il lag. Vorrei trovare il luogo dove si trovano le capre fortissime, il duello, dove c'è la lotta con le capre. Ma il problema è che non so dove si trovi. Si può entrare in casa col Gepa? Adesso devo entrare in casa col Gepa. Sto bene, sto bene. Ok, quindi voglio trovare quel luogo lì, ma non so minimamente dove si trovi. Se si riesce a fare qualcosa... Ok, devo uscire da qui, in qualche modo. Caspita, state cal... È andata a fuoco una tizia! Perché sta bruciando, boh? Devo uscire dalla finestra. Devo uscire dalla finestra. Esci da qui. Ed esci. Caspita sono? Boh, ok. Dobbiamo cercare quindi quel luogo lì. Ok. Ok. Allora, tizi, vi state antipatici tutti quanti. Oh, caspiterina. Aia! Ok. Non ho ancora capito come si fanno scaricare le mod. Bene. Ok, allora cerco quel luogo e ci vediamo fra poco. Ti metti in pausa! Ok, ragazzi, allora... Ho guardato un pochino qua e là, ma non l'ho trovato. Mi sa che è tipo una cosa... Strana. Assurda. Inimmaginabile. Comunque, lasciamo perdere questa, allora. Ok. Cerchiamo qualcos'altro, allora. Ma perché lagga così, vabbè? Qua c'è un alberello. Perché c'è un alberello? Tiro una testata a sto albero. E non succede niente. Ma perché mi sta laggando così? Ok. Mi sembra strano sta cosa qui. Che è stato? Oh, basta laggare così. Vabbè, non c'è niente qui. Andiamo avanti, allora. Ah, ma... Ti alzi? Ok, è stato difficile. Mamma mia, dove sto finendo? Boom! Incredibile. Vabbè. Vai! Ok, pensavo che volesse via, vabbè. Ok. Ma perché mi sta laggando in sta maniera? Boom! Ecco, per entrare qui dentro, vediamo se c'è qualcosa. Ok. Posso riuscire? Ci riesco. Non ci riesco. Sì. Ci sono riuscita. Sono riusciti. C'è qualcosa qui? No, non c'è un cavolo. Ok, aspetta, come non ho detto. Cos'è? Ah, è lo spara palline. Beh, se sono il jetpack, però non funziona. Boom! Ma spara le palline davvero? A me non sembra. Sì, le spara, vabbè. Devo togliere la... Devo togliere la capra col jetpack perché sennò poi non funge. Ok, eccomi qui. Allora. Ok, comunque questa capra qui che... Che ho scelto non è una semplicissima capra, è una capra che schiacciando R fa così e poi diventa velocissima. Ok, adesso ricerchiamo quella roba lì di prima. E tu chi sei? Un qualcosa che esplode. Fermi. Via! Sto benissimo, mi sono schiantato e ora sono sedere all'aria, però va bene. Dov'è più? Eccolo lì. Mamma mia, ma ci riesci a fare qualcosa? Ok, ho fatto qualcosa, ho fatto schizzare via qualcosa. No, no. Piano, piano! Deve tornare là. A volte che sta capra sembra erbile. Mamma mia, non ci si riesce. Prima, come che... Prima ci ha messo 30 secondi? Ma è che va troppo veloce questa qui? Che piano. Piano. Piano, ancora pochino. Ecco, ora vai lì. Vai! Benissimo. Prendiamo l'arma. Funziona. E però fa anche pv pv. È perché non dovevo prendere la capra di una capra. Beccati questa parete! È abbastante. Ok. Ok. Ho spaccato tutto. Ok. Ci sono. Fuoco! Ma che stupido quello. Dove sta andando di preciso? Prendiamo la mira. Fuoco! Pichum! Mancato. Pichum! 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 Sta mancando chiunque! Ok. Boom! Man shot! Sto benissimo! Ci sono. Ok. Cosa? Perché? Boom! Ok. Car, anzi. Mantieni sveglio. Noi dobbiamo... Grazie. Dobbiamo andare... Dobbiamo andare... Da qualche parte. Oh, che si... Ho preso qualcosa con la lingua. Cosa ho preso? Cosa ho preso? Oh! Che sfida ho preso? Una pallina ho preso? Ma non la voglio questa pallina. Faccio un materasso. Che faccio? Uh, ribalza sta cosa. Qua ci posso entrare, sì. Attenzione! Ehi, tv! 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 Ok. L'importante è che il resto non si sia fatto male. Tranne il divano e tutto il resto. Può esplodere? Ok. 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 Boom! Ok. Boom! Ok, sto disintegrando tutte le auto esistenti. Davvero? È sparita? Ah no, eccola qui. Fail. Ah, non ci riesco. Vabbè. Andiamo da qualche parte. Oh! Che pelo! Ok. C'è un tizio lì. Vabbè. Sono blu! Sono blu! Sono blu! Oh, caspita! Dove sono finito? Oh, dove sono finito? Ah, ecco qui. Ok, per te. Ah! Boom! Ho fatto un massacro! E poi si stanno ammazzando anche fra di loro. Ok, si sono uccisi tutti! E compreso me. Ok, sono vivo? Sì, sì. Cosa fa quello lì? Ah, ma sono ancora sopravvissuti alcuni. Sono... No. Vabbè. Che fanno? Si sono accalmati? Va bene, meno male. E tu come ci sei arrivato qui sopra? È morto! È un altro così al caso. Pichum! 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 Uaaaa! Ok, non ha funzionato. Fermo. Ok, è stato devastante. Oh, un dizio è arrivato fino a qua. Vabbè. Sto benissimo. Non è successo l'effetto desiderato. Boom! Distrutto tutto. Ok. Si può entrare qui dentro? Ma non è una porta. È una porta. Ma cosa è questa cosa? Ah, io voglio entrare là. E sai anche come fare. Vero, macchina? Vero? Vai! Non ha funzionato. Ma c'è sempre questo cartello qui. Come si fa ad entrare qua? Da lassù. Da quelle rocce. Ah, caspita. Però se non riesco a salirci di sopra. Oh. Ok, allora. Vediamo un po'. È una recinzione molto recintata. Ma è possibile oltrepassarla? No. Ecco, adesso mi sono incastrato qui dietro. No. No. Vabbè, ragazzi. Direi che questo era tutto. E poi ci vediamo nel prossimo episodio. Sono una capra blu che spara palline. E anche un po' strana. Vabbè, ragazzi. Quindi questo è la corso simulator. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Lag.